Buonasera, 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 benvenuti ai 25 anni di carriera. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. 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 Adesso un brano in cui canteremo insieme, abbiamo ascoltato la bella voce del maestro Nifiorentino, adesso ci sentirete cantare insieme, avremo modo questa sera di cantare un sacco di canzoni, di farvi rivivere delle emozioni perché interpreteremo, reinterpreteremo brani che sono nella memoria di tutti, questo è uno di quelli. Mina e Cocciante, questione di feeling. Tuttiamo insieme, in libertà, lasciando andare la voce dove va, così bene, spesso tra di voi, posso provarci chi ha, inizia pure. Sei, la melodia che canterei, sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere. Così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno è per la tua sentenza. Che fermi dal colore sempre, sempre e persino più sincero, nel cantare, nel cantare insieme. Che fermi dal colore sempre, non ci sentirete, nel cantare insieme. Che fermi dal colore sempre, non ci sentirete, nel cantare insieme. E al mio manger su di una normaava店. Che fermi dal formando edilando, alle nostre sguardo, che Falconi si mette in casa, 홍olino ha quindi, che per quanto riguarda dimostra insieme. Che guardi dal colore sempre, ma poi da quanto riguarda una volta, inizia pure l'anima ovunque, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti